Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale, in FIPILI ralentamenti per lavori tra la Strassigna e Ginestra in direzione di Livorno. Per l'estatale ricordiamo sul raccordo Siena-Firenze la chiusura degli svincoli di Tavarnelle verso Siena e di Poggi Bonsi Nord verso Firenze per lavori fino al 6 ottobre. Siamo al traffico ferroviario regionale 3057, Lucca, Firenze e Santa Maria Novella sta viaggiando con un ritardo di 92 minuti. L'arrivo è al momento previsto alle 15.54, salvo recupero. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Vienna delle 15 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 15.20. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!